lui è Nicola e vive in una casa molto piccola ogni giorno cerca una soluzione per avere più spazio per il suo tavolo per i suoi vestiti per il suo gatto e anche per i suoi libri ma da quando c'è Carlotta l'idea migliore è un mutuo biper banca se vuoi comprare cambiare o ristrutturare vai su casa.biper.it biper banca vicina oltre le attese